Simon, so che il padiglione medico è il tuo regno, ma ti invito a riflettere su questo l'acqua dell'oceano è più fredda delle tette di una strega. Se le tubature non vengono riscattate, gelano. Se le tubature gelano, si crepano. Se le tubature si crepano, a Raptor, si aprono delle palle. Capisco che sei uno snowman e freddamente bene, se fischi o fai a pescare, ma se si aprono delle palle a Raptor, è la fine. E in quel caso dirò a Ryan che ringraziare. Grazie a tutti. 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 Grazie.